Un'altra storia di violenza domestica da raccontare, ma questa volta il coraggio di un piccolo uomo ha evitato che le percosse continuassero a rendere un incubo la vita della madre. È stato il figlio 14enne a chiedere aiuto alla polizia di Stato. È successo ieri sera intorno alle 19. Il ragazzino ha assistito all'annesima lite tra i genitori, ma come sempre ad avere la peggio era la madre. La donna è scappata e ha trovato rifugio presso la vicina di casa. Il 14enne ha preso il telefono e ha chiamato il 113. Ha raccontato cosa era successo e ha chiesto aiuto ai poliziotti. Quando gli agenti sono arrivati, come detto dal ragazzino al telefono, la madre era dalla vicina dove aveva trovato rifugio. Era in lacrime con evidenti segni di percorsi al capo. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal marito e picchiata con calce e pugni. Per l'uomo sono scattate le manette ai polsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Adesso si trova ai domiciliari presso un'altra abitazione.